Ciao a tutti, bentornati e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qua per presentarmi il Cantatù di Soiluna, distribuito da Giochi Preziosi, che è l'azienda leader del mercato italiano del settore giocattoli. Perfetto, ora apriremo il Cantatù insieme. La prima cosa che troviamo è il libretto delle istruzioni, assolutamente da non perdere perché si può trovare questo codice coupon per scaricare e ottenere le canzoni in omaggio. Poi troviamo il microfono professionale, il cavo line-in, l'alimentatore, il supporto di Soiluna per appoggiare tablet o telefono e infine il Cantatù. La prima cosa da fare ovviamente è scaricare l'applicazione Cantatù ed è gratuita sia per Android che su iOS quindi andate a cercare l'applicazione Cantatù e la scaricate. Dopo che l'applicazione si è scaricata, ovviamente l'aprite e spingete su accedi per poi spingere registrati e vi dovrete registrare. Vi dovrete registrare con la vostra email, con la password e col codice coupon che il codice coupon è il codice che trovate nel libretto delle istruzioni. Dopo che avete eseguito la registrazione, spingete su registra e potrete scaricare tutte le canzoni che volete gratuitamente. Un'altra cosa molto importante è che nell'app potrete acquistare una selezione di oltre 600 basi in più potrete scaricare 5 canzoni originali della serie Alex Echo e Soy Luna. Il filo del microfono è da attaccare dietro dove ci sono questi due perché si possono mettere non solo un microfono ma ben due microfoni. Poi il cavo Line In si mette appunto dove c'è scritto Line In. Infine attacchiamo l'ultimo cavo che va dove c'è scritto DC5W e la presa la attacchiamo alla corrente elettrica. Infine mettiamo il supporto che ci fa diciamo da leggio e sopra appoggiamo il nostro apparecchio dove abbiamo scaricato l'applicazione. Ora che abbiamo finito di montare il Cantatù ci iniziamo a divertire insieme cantando appunto insieme al Cantatù di Soy Luna. Qua abbiamo due scatole con da una parte abbiamo le canzoni mentre dall'altra le difficoltà perché per ogni canzone ci sarà una difficoltà da affrontare. Il primo canzone con me sarà Mio Fratello. Ora iniziamo a sorteggiare la canzone. La canzone è 7000 caffè di Alex Britti. La difficoltà è Killer Phone. Quindi mio fratello, perché questa è la sua canzone, dovrà cantare tanto che io gli sparo il phone addosso. E adesso è arrivato il momento di cantare quindi chiamerò mio fratello. Allora adesso in video tu dovrai cantare 7000 caffè. Quindi prego, puoi iniziare. 7000 caffè Gli 8 mesi perché Sono stanco di stare al volante vorrei Arrivare entrosera da te Che aspetti di me Nel castello lassù Dall'attrezza già sciolta Passata al balcone vestita di blu 7000 caffè Lo ragazzo non ci fa Ma adesso non ci fa No, non neanche Non è che Nel castello E non è che E non è che E non è che E non è che Tu per te Tu sei bello e poi Vai! Ho bisogno di tutte quelle cari! Vai! Ho bisogno di te! E come la fai qua? Vai! Vai! Ora toccherà a me, quindi Alvise prego, sorteggia. Allora, difficoltà! Mangiando marshmallow e saltando. Ok. Adesso mi vedi. Poi la canzone... è... Ufo Robo. Ok. Adesso ti voglio. Ufo Robo! Ufo Robo! Si trasforma in un'azomissile con circuiti di mille valvole tra le stelle. Sprint arriva! Mangiali mille! No! 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 Continua! Canta! 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 Si, si, dai! Ma non va! Ma non va! Ma chi è? Ma chi è? Ma... Canta! 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 Dato che non sono riuscita a superare la prova, mi toccherà fare un'altra prova, quindi pesca! Canta! Dai, raga! Ci siamo! Manichino! Difficoltà! Manichino! Lo spiego io o lo spiego di te? Spiego io! Allora... Consiste... Nel... Allora... Lui sarà vestito e io dovrò essere vestito... Vestita dentro di lui... E io ho le mani dei dati e lui può fare quello che vuole, quindi... Ok... Cazzo! Sincerità! Te la ricordi? Si! Ok! Possiamo partire! Vado a cambiare! Sincerità... Adesso è tutto così semplice... Con te Cristo è l'unico complice... In questa storia magica... Sincerità... Un elemento imprescindibile... Per una relazione stabile... Che punti all'eternità... Adesso è un rapporto davvero... Ma siamo partiti da zero... All'inizio era poca ragione... E poi ti scelte la passione... A fare rifare l'amore... Per ore... Per ore... Per ore... Aveva che cose da dirti... Paure a volte pentirsi... Ed io... Come il solito tumore... E tu... Con le solite storie... Lasciarsi... Ogni due settimane... Pugge per non farmi soffrire... Ma a volte era meglio morire... Sincerità... Adesso è tutto così semplice... Con te Cristo è l'unico complice... Di questa storia magica... Di questa storia magica... Sincerità... Un elemento imprescindibile... Per una relazione stabile... Che fosse all'eternità... Che fosse all'eternità... Adesso sembriamo due amici... Adesso noi siamo felici... Significa quello è normale... Ma poi si fa sempre l'amore... Questo era il video... Ringraziamo... Ehm... Giochi Prezioni... Per averci dato l'opportunità... Di giocare... Con... Con la Z... E con il Cantatou... Invitiamo tutti voi... A fare questa challenge... E a comprare... Il Cantatou... Perché ci sono di tutti i protagonisti... Di Disney... Ovviamente se questo video... Vi è piaciuto... Lasciate un bel like... Un grosso bacio... Ci vediamo...